però avete visto quanto, nonostante abbiamo cercato di essere sintetici, quanto è stato lungo riuscire a vedere tutte le varie fasi del processo analitico che comunque in laboratorio costa sicuramente tempo e ci impone di seguire dei protocolli, delle procedure e di sfruttare al meglio la strumentazione di cui siamo dotati. Quindi a questo punto passiamo a quello che siamo riusciti a produrre col supporto anche non solo nostro ma adesso vedrete passo passo di chi. Quello che volevamo presentare oggi era una preview di una bozza di proposta di manuale che dovrebbe favorire tutte le parti interessate alla corretta esecuzione della parte pratica e quindi di quello che succede fuori dal laboratorio perché comunque quello che possiamo fare in laboratorio è strettamente vincolato alla qualità del campione che ci viene fornito, a come viene prelevato e conservato e quello che ho anche scritto invece è anche la web app che è un'altra potenzialità che vorremmo sviluppare insieme per risolvere tutte le problematiche che abbiamo riscontrato negli anni. Quindi manuale CITES e web app come strumenti operativi a supporto della conservazione. Io sono Claudia Greco, hanno contribuito chiaramente tutti i colleghi dell'area ma in particolare Edoardo Velli che ha sviluppato i concetti grafici, quindi il logo e la locandina e poi due colleghi invece che si occupano prettamente della parte informatica che hanno messo online la web app che non è ancora disponibile, è solo in preview sul sito ISPRA e che verrà discussa insieme. Quindi questo manuale di cui vi accenno nasce dalla risposta alle difficoltà che ogni giorno ci troviamo a fronteggiare. Da un lato le risposte alle chiamate o comunque alle email o a tutto quello che ci viene richiesto in termini di dubbi, ma anche a come i campioni pervengono al laboratorio e al fatto che a volte senza magari confrontarsi a sofficienza quello che arriva a noi è un campione che non è analizzabile e questo chiaramente andrebbe evitato perché è un costo di tempo per i carabinieri che sono sul territorio e per noi perché a volte dobbiamo reiterare le analisi anche più e più volte. Sulle chiavette USB che vi abbiamo lasciato, che è un cadeau non solo estetico, avete la versione beta di questo manuale che appunto il file si chiama campionamento CITES manuale tecnico versione V0, quindi sarebbe la base su cui insieme dobbiamo costruire l'optimum che risponde alle esigenze del Ministero, dei carabinieri forestali, quindi di chi è su campo fisicamente e anche di noi del laboratorio. Quindi la risposta alle prime domande che ci siamo fatti abbiamo cercato di riviverla e di strutturarla insieme ai ragazzi che hanno seguito quest'anno un percorso di alternanza scuola-lavoro dell'Istituto Superiore Majorana di San Lazzaro che oggi hanno deciso di partecipare, noi siamo molto contenti, quindi dopo ci faranno vedere il loro di prodotto, quindi oggi abbiamo il preside, la professoressa che li ha seguiti e due dei ragazzi della classe, quindi un'intera classe ha seguito questo percorso. Queste tre pagine che vedete sono le pagine di un manualetto che viene prodotto online da Ispra sui percorsi di alternanza ogni anno. Quest'anno si chiama Appunti di Viaggio 3 del 2019, contiene 16 percorsi di alternanza scuola-lavoro che spaziano su tutte le tematiche di cui Ispra si occupa, hanno coinvolto 165 studenti e sono chiaramente dei piccoli racconti di quello che siamo riusciti a fare insieme a loro. Quindi, senza entrare nei dettagli perché poi ve lo racconteranno loro, queste sono una carrellata di immagini, abbiamo messo anche in calce l'immagine con i carabinieri forestali dei nuclei di Bologna e di Forlì, quelli di Forlì ci dispiace molto, oggi non sono presenti, però comunque Bologna c'è e insieme abbiamo sviluppato questo percorso e quindi i ragazzi hanno toccato con mano e sentito dalle parti in causa quali potevano essere le difficoltà, le problematiche e come andavano affrontate. Quindi, se vedete nelle foto in basso, hanno preparato delle provette, quindi quelle che vedete che vi arrivano anche per campionare, hanno provato a vedere come funzionava il prelievo di peli, quindi vedete, chiaramente abbiamo usato esemplari tassidermizzati, non esemplari vivi, però come si faceva il tampone buccale, quindi lo swab, che hanno fatto su se stessi e quindi hanno frequentato il laboratorio, noi siamo stati in classe, i carabinieri ci hanno accompagnato in questo percorso, i carabinieri forestali. Quindi, com'è strutturato questo manuale? Cerco di essere veloce, abbiamo cercato di fare una cosa molto semplice e operativa e le sezioni del manuale sono divise a livello cromatico, quindi c'è una parte generale che ha lo sfondo azzurro che più che altro innanzitutto introduce la problematica e dà un'idea di base a com'è strutturata la certificazione CITES, quali sono i passaggi, chi sono le parti coinvolte, quindi il ministero, la CSC e il laboratorio. A cosa serve il manuale? Il manuale per noi è un strumento puramente operativo, quindi all'interno del manuale ci sono delle schede che sono suddivise per tipologia di campione e per specie da analizzare e come potete vedere abbiamo suddiviso in arancione abbiamo i peli e le penne, in rosa la saliva, in verde il sangue e in giallo il tessuto muscolare. Questa è una scheda ad esempio, quindi nella scheda che cosa abbiamo? Si comincia con i casi d'applicazione, quindi quando devo effettuare il prelievo di penne e peli, in questo caso, quali sono i materiali che mi occorreranno su campo, quindi i dispositivi di protezione individuali e il materiale di campionamento vero e proprio, come va effettuata passo passo la procedura di prelievo e come va etichettato il campione. Quindi questi passaggi chiaramente sono quelli che vengono fatti su campo, questa è la nostra proposta, se da parte dei carabinieri o dal ministero ci sono altre indicazioni o magari ci sono dei passaggi che non sono chiari, per noi è importante che venga costruito insieme per riuscire ad essere veramente uno strumento operativo e non un manualetto così, un qualcosa di colorato da tenere in mano. Quindi poi c'è una sezione su come compilare il verbale di prelievo, che è stata volutamente fatta molto snella, quindi è una paginetta, perché speriamo che si riesca anche su questo a migliorare, creando anche un verbale più strutturato, più operativo, più rispondente alle esigenze e che aiuti noi e voi a lavorare meglio. E poi c'è una sezione piuttosto articolata di alcune decine di pagine sulle domande più frequenti che riceviamo. Questo non per fare i maestrini, ma per cercare di spiegare soprattutto magari a chi si approccia per la prima volta al prelievo o lo fa da poco tempo, quali sono i dubbi più ricorrenti e qual è la risposta, quindi come comportarsi in, diciamo, magari casi particolari o in generale. Quindi il primo step è stato quello e il passaggio oltre che abbiamo provato a fare, grazie al supporto appunto di Digicina e quindi dei colleghi che si occupano di informatica, è allestire una web app su cui abbiamo tradotto il manuale. Quindi sul portale web Ispra è stato riversato il manuale, quindi le schede tecniche, che a questo punto, appena lo abbiamo stabilito insieme, condiviso e consolidato, potrebbero essere uno strumento da utilizzare anche su campo. Quindi attualmente la web app è di mera consultazione, quindi ricalca quello che troverete nel manualetto, ma e quindi consente semplicemente di selezionare la specie, il tipo di campione, e di ottenere le informazioni su come effettuare il prelievo. Però chiaramente è implementabile e lo step successivo potrebbe essere quello di raccogliere anche i dati dalla web app. La web app al momento geolocalizza il punto su cui viene, diciamo, consultata e consente di uploadare eventualmente una foto del verbale di campionamento. Però, diciamo, la prospettiva futura, che potrebbe essere uno strumento utile, è quella di poter proprio fisicamente inserire i dati, e quindi avere dati che vengono restituiti al Ministero, ai Carabinieri e a noi, già digitalizzati, quindi il numero di microchip, la specie, il nome dell'allevatore. Questo sarà tutta cosa da discutere e valutare insieme. Quindi, in ogni caso, comunque, di ogni attività svolta sull'applicazione, rimane traccia in un database apposito. Quindi, come abbiamo lavorato? L'app, non ve la faccio vedere, perché comunque il concetto è abbastanza semplice. Questo è una specie di mappa concettuale che abbiamo creato per far capire ai nostri informatici come rendere in maniera digitalizzata il manuale. Quindi, sono tutte chiavi dicotomiche in cui una semplice risposta, sì, no, consente di passare alla step successivo e di arrivare alla fine alla scheda di campionamento più opportuna. Quindi, non si legge perché è scritto molto piccolo, però ad esempio qui c'è scritto mammiferi, l'animale è vivo, sì, no, in questo caso ad esempio è sì, è vivo, i campioni di pelo sono facilmente prelevabili, sì, prelievo dei peli, verifica del materiale, verifica della procedura, compilazione del verbale, chiaramente si aprono le schede, oppure c'è tutta l'altra casistica, è deceduto, la carcassa è in buono stato di conservazione, sì, prelievo del tessuto e quindi questo è, direi, spero in maniera abbastanza chiara, abbiamo provato a tradurlo. Quindi, questo, come vi ho detto, è un lavoro che parte qui, ma che dobbiamo e vogliamo fare insieme, quindi è un work in progress, quindi sono bozze preliminari che dobbiamo implementare e migliorare con il contributo di tutti, in primis degli operatori del CUFA e del MATM. Quindi, vi ho già detto che potremo valutare come e quanto svilupparla e un altro ulteriore step, barra proposta, potrebbe essere quello di allestire dei database condivisi, consultabili da tutte le realtà coinvolte. Questa è stata una richiesta che è emersa anche da, insomma, da altri di voi, quindi CUFA, CSC, MATM e ISPRA, in modo da essere più operativi, in modo da poter effettuare delle query o dei filtri sui database e ottenere delle informazioni di utilità comune. Quindi, come continuiamo? Continuiamo con la tavola rotonda, quindi continuiamo con il confronto, lo scambio e le integrazioni di tutti. Grazie Claudio, grazie mille. Grazie.